Una partita impossibile Bellissimo, bellissimo, abbiamo lottato fino alla fine Per fortuna questo gioco ci ha premiato perché vincere contro una squadra così è la che meglio gioca il campionato dà soddisfazione, quindi siamo contenti Ecco, questa vittoria significa che autostima vi obbliga a dare ancora di più perché ce la potete fare Certo, certo, questo campionato è molto equilibrato si può vincere tutte con tutte però è sempre importante in casa e ripeto, innanzitutto contro una squadra così perché di là della rosa e tutti quanti sono i migliori perché si passano la palla quindi complimenti a loro oggi però siamo riusciti a prenderla noi E allora ecco un bel segnale per il grande appuntamento prossimo sarà una partita speciale Una partita speciale, Arezzo Siena come sempre anche come questa Anche perché c'è un allenatore C'è qualche condimento in più ma sarà una bellissima partita sicuramente Grazie a tutti Grazie a tutti